La violenta scossa di terremoto della mattinata di oggi, mercoledì 9 novembre, ha provocato anche il crollo parziale della madonnina della parrocchia dei frati Cappuccini di San Francesco a Pesaro. Il sisma ha sfigurato parte della statua. L'area sottostante è stata transennata per il rischio di altri crolli. C'è stata questa scossa di terremoto abbastanza violenta e stavamo in chiesa e già un po' di paura l'abbiamo presa perché tra l'altro un grosso calcinaccio è caduto proprio un metro e mezzo davanti al banco dove stavo io e si mi cadeva in testa perché la chiesa è alta e poi siamo usciti. Poi successivamente sono venuto qui davanti alla chiesa perché qui sono diverse guglie e pensavo per vedere se era caduto qualcosa e mi sono accorto che era caduto un pezzo qui della statua della Madonna che sta in alto, oltre 15 metri d'altezza sta la statua della Madonna. Ed era caduto il pezzo dietro, il cappuccio direi, dove è innestata la corona che contiene diverse lampade che di notte è illuminata e tutti quelli che passano qui sul cavalcavia vedono questa Madonna illuminata. E' caduta, è caduta, è caduta a terra, si è frantumata un po' tutto il pezzo e adesso vedremo di poterlo restaurare, di se si può riattaccare. Ma prima vogliamo anche verificare la stabilità della statua perché qui passa tanta gente, tanti ragazzi, non vorrei essere sicuri che la statua sia stabile perché è pesante. Poco fa ho visto già il pezzo che è caduto, è pesante. Ho avuto la telefonata che è stata danneggiata anche la chiesa del cimitero dove io faccio servizio, proprio ieri ho terminato l'ottavario dei defunti e mi hanno detto che adesso è chiusa perché sono caduti i calcinacci vari e non saprei di preciso l'entità, andrò domattina a vedere e quindi la chiesa del cimitero adesso non è agibile.